Molte novità stilistiche si affiancano alla storia e ai richiami del passato. Innovazione e stretto legame con la tradizione caratterizzano le nuove divise del Pescara Calcio per la stagione 2014-2015. Le nuove divise sono state presentate ieri sera a Silvi Marina presso il centro Ledune, davanti ad un bel numero di tifosi. E' classica e nel solco della tradizione la prima maglia gara, a strisce verticali azzurre stampate in transfer su sfondo bianco. La maglia Home propone colletto a polo bianco rifinito da un bordino a V in tessuto smacchinato e vestibilità semiaderente. Le maniche rimangono bianche con unica banda azzurra che corre lungo le spalle. Al lato cuore si trova lo stemma societario, a destra il logo RA in azzurro come quello sulle maniche. Sul retro della maglia sotto il collo è ricamata la scritta Pescara Calcio. La maglia è confezionata in tessuto T-Energy caratterizzato dall'impiego di nanoparticelle di argento e titanio inserite nella trama delle fibre che dona alle divise caratteristiche di traspirabilità, idro e oleorepellenza, antistaticità e antibattericità. Il pantaloncino abbinato è sempre a sfondo bianco, arricchito da due bande laterali blu, il logo RA e in questo caso a sinistra, mentre quello del Pescara Calcio è a destra. Ispirata agli anni 70 ma in chiave rivisitata, la divisa away che presenta un look pulito e dal sapore retro. La nascita della seconda maglia ha preso spunto infatti da una storica casacca indossata dall'indimenticato numero 4 capitano del Pescara Vincenzo Zucchini, straordinario calciatore, allenatore e dirigente scomparso un anno fa. Collo a polo bianco, lo sfondo è blu, scuro con un nuovo motivo caratterizzato da tre piccole bande verticali che scendono al centro della maglia in doppio colore bianco-azzurro. La vestibilità è ancora semiaderente ed il tessuto T-Energy, decisamente nuova e inedita, la terza casacca che propone un aggressivo colore verde fluo rigato da sottili bande bianche e azzurre in orizzontale. Il colletto questa volta è alla coreana azzurro e riprende nella tonalità i loghi RA e la piccola riga orizzontale. Il kit si completa con il Panta, che è sempre di colore verde, fuoco con profili bianchi e bordi azzurri e bianchi.